Allora, ho il piacere stasera di intervistare Dado Tedeschi. Dado, io so tutto di te, però voglio che lo dici. Racconti tu. Vuoi che lo dica io? Sì, è la stessa cosa che dicevo io a scuola. Io so tutto... Niente, Dado Tedeschi è nato nel 67, ho fatto il 68, il casino in Eranda, rimanifestazione col girello, però insomma mi sono più o meno adattato. Io sono di Verona di nascita, vivo a Milano dal 90, all'inizio vivevo in un monolocale, dopo tanti anni sono tornato in un monolocale, perché poi le carriere vanno e vengono così. Ho cominciato facendo solo il comico, poi sono diventato anche autore, ho fatto due edizioni di Colorado come autore, varie edizioni dei Maidire con la Gialappa, poi insomma sono andato in un corso di recupero, sono tornato normale, insomma sono gli autori anonimi. mi dice, ciao sono Corrado e sono dieci anni che non firmo una trasmissione, ciao Corrado, queste cose insomma che fanno bene e adesso mi occupo sempre di fare il comico che è la primaria passione, poi seguo degli allievi, insegno comicità, cerco di trasmettere un po' quello che ho imparato io negli anni, perché così quando morirò saranno, andranno avanti anche loro insomma. Bello comunque stai aiutando delle generazioni, delle nuove generazioni. Sì, però mi faccio pagare, non sono un filantropo, capito, sia chiaro questa cosa. Ma comunque va bene, pagano con un professionista per imparare, c'è gente che lavora, studia in scuole dove proprio ci sono dei cani, quindi è molto meglio. Sì, no, perché poi mi chiamano maestro, queste cose, io tre volte che tento di camminare sulle acque vado sempre sotto, capito, allora cerco sempre di ricordarmi che mi faccio pagare proprio perché dico, no, non sono il maestro, sono un professionista, come dici, le cose che hai detto tu andavano benissimo. Ma lo so, quindi questo è il minimo che tu possa fare. Senti, ma i tuoi obiettivi cosa, a parte essere ricordato, speriamo più tardi che mai, ma poi quali sono i tuoi obiettivi, ora come ora, i tuoi progetti? Oggi come oggi ho come progetto la sopravvivenza, assolutamente, ho due figlie da tirare grandi, quindi insomma cerco di andare avanti così. No, la cosa bella, io ho quasi 50 anni, la cosa bella di arrivare a 50 anni è non avere più progetti, proprio come dire, aspettative, e vedere cosa succede, e divertirsi dentro, questo è, il mio progetto è continuare a divertirmi con questo lavoro, fondamentalmente. Quello che faccio io, che mi sono stato fermo 8 anni, ho avuto una brutta malattia che mi sono curato e anch'io, che ne ho 52, cerco di tirare avanti e vedere, mi metto in gioco, però tu penso che sei molto bravo, non hai bisogno di metterti, penso che hai delle aspettative. Sì, intanto che ho l'aspettativa che vada in onda a questa intervista, perché poi mi piace molto rivedermi dopo, ah che guarda che sono in tv, però sì, l'aspettativa è quella di crescere nelle cose in cui si sta cominciando, io vorrei riuscire, io non lo faccio da abbastanza anni perché sia successo, ma vorrei riuscire a vedere gente che magari ha fatto dei percorsi con me, arrivare magari a risultati molto importanti. Qualcosa è già successo, perché in alcuni stage che ho fatto c'erano buzz, c'erano i turbolenti, quindi li ho presi un po' agli inizi, non è merito mio, io sono sempre parte di un percorso che è sempre molto più ampio, però sai, avere messo due briciole nella situazione fa comunque piacere. Per un insegnante fa piacere vedere gli allievi che migliorano, che vanno avanti, poi è questione di talento soprattutto, però il talento va aiutato. Sì, no, poi uno poi ovviamente fa l'insegnante per beccare della gnocca, cioè questo è la cosa poi fondamentale, soldi e gnocca, sono le stesse aspettative di quelli che vogliono diventare ricchi e famosi, però siccome non riesci, allora dice cerchiamo di capire come posso continuare a questa cosa, a volte c'è solo la gnocca, a volte ci sono solo i soldi, però bene o male quando ci sono i soldi puoi procurarti delle gnocche, insomma è tutto un giro, no, sta dicendo un sacco di minchiate, però... Stai dicendo la pura verità, stai dicendo perché tutti ragioniamo così noi uomini. No, 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 anzi guarda, no perché c'è gente che mi guarda che potrebbe, potrei essere compromesso, no, assolutamente, i soldi sì, ci punto molto, la gnocca no, ma hai raggiunto pace dei sensi, ogni taglio, a parte che ho sempre avuto delle misure infinitesimali, una donna una volta mi ha detto vorrei vedere il tuo pisello e io ero già nudo, capisci questa la cosa, sei troppo forte, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, veramente un onore, ringrazio io voi assolutamente.